E' la festa di un partito democratico che vuole mantenere saldo il rapporto con la cittadinanza in un clima di costante dialogo, ascolto di quelle che sono le problematiche che oggi pervadono la società, quindi dai temi che riguardano l'ambiente, il ruolo che hanno le aree interne nel nostro paese, nella nostra regione, nella nostra provincia e il tema legato al lavoro, che forse più di altri caratterizza un partito di centro-sinistra e popolare come il nostro, che è il tema del lavoro, con un occhio attento anche ai più giovani, perché sappiamo per un giovane oggi quanto sia dura andare a vivere da solo e anche a causa di condizioni economiche e lavorative molto limitanti. Quindi è la festa di un partito che in questa campagna elettorale ha l'obiettivo con la sua coalizione di vincere le elezioni e di essere il primo partito e punto di riferimento per tutti. La festa si terrà da venerdì 2 settembre a domenica 4 settembre nel parco Guido Volponi, a fianco alla chiesa di Montecchio di Vallefoglia e saranno tre giorni dove si alterneranno dibattiti, cene e musica. Partiamo venerdì con un dibattito sulle aree interne con Alessia Morani, candidata al Parlamento, per poi passare a 2 settembre con un dibattito sulla sostenibilità ambientale con il sindaco di Vallefoglia, Palmi Rucchielli, e la festa si chiuderà domenica 4 settembre con un dibattito sui temi del lavoro con Matteo Ricci, sindaco di Pesaro. Quindi saranno tre giorni dove il Partito Democratico afferma la sua presenza nel territorio e chiama a raccolta tanti cittadini con i quali noi vogliamo mantenere un rapporto sempre più saldo e proficuo. Il Partito Democratico di Vallefoglia e i giovani democratici hanno voluto, dopo circa 10 anni, creare questo appuntamento. Quindi è una bella occasione per incontrare i cittadini, sentire i loro problemi, le loro ansie, parlare di futuro del pianeta, di futuro di questo Paese, perché si vota il 25 per il rinnovo del Parlamento, per parlare del futuro delle Marche, visto che metà giunta se ne va via dopo aver appena appreso cosa bisognava fare per le Marche in due anni, ricominciando tutto da capo, se verranno eletti. Quindi una situazione del tutto particolare e poi anche dei problemi della città. Il rapporto con tutti i candidati, molti di quali saranno anche eletti, col Consiglio regionale, con la città di Pesaro, con i sindaci sui temi del lavoro, sui temi dell'ambiente, sui temi delle bollette del gas, della corrente elettrica, di tutti questi ingiustificati, ingiustificabili aumenti che ci hanno propinato i potenti della terra in maniera del tutto assurda e intollerabile.